buongiorno mannaggia il crocistrada ma buongiorno no buongiorno stamattina non è un buongiorno ma la mattina eccola tiramo sul calzetto ma tiramo su sto calzettino ma che tirano su lo strap no eh ma tiramolo su eh dire forte basta eccola la nonna eh com'è sta svegliata bene guarda che becca il cappellino sempre alla mariadona eh si eh non mi baci oh no no stai arrivare eh dammi un consiglio aspetta guarda guarda oh come va sta outfit o no? che? sta outfit come va? ma qui? l'outfit pannafiga va bene questo? si si va bene e poi dov'è? va bene dov'è andà? a fanculo hai capito tu? quindi con sta outfit dov'è andà? a fanculo dove? a fanculo dove? ma va a fanculo oh ma è impossibile che questo? vada a fai tutte le volte cucito che steffa? oh che steffa? e dopo? ma fai a fanculo oh adesso proprio ne ho presi una marea posso andare felice sono da edo che ha un regalo per me babbo natale è arrivato kit sbiancamento questo top vi farò vedere ragazzi eh grande come funziona come funziona ve lo farò vedere bellissimo per i denti più bianchi più bianchi che dell'Umbria dell'Italia dell'Italia del mondo eh ma adesso tra una settimana tra una settimana perfetto vi farò vedere coccodrilli vi invito a partecipare questa sera alla diretta del mio amico Jack Sintini e andate a vedere vi taggo le pagine e per regalare un Natale più sereno ai bimbi della misericordia dell'ospedale di Perugia nel frattempo livello di viziatura altissimo pere, noci e cioccolata cioè ragazzi con la cioccolata speciale della vetusta buonissima oh nooo ma per... ma per... ma per... e fa figa ma... nooo ma perché... eh allora va... eh... attenzione... guarda come arciuga guarda 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 vedremo bene... vedremo bene... vedremo bene... vedremo 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 guardate che bella tagliata di petto di pollo brucola pomodorina e nocciola uno spettacolo ah che bello torna a casa... con la cena così... un po' l'acqua no Jack Sintra! ma perché sei scemo? ma perché sei scemo? ma dai che male? ah... mi metto in goccia ma io ho preso un tantino di vino puro qua ma che metto l'acqua eh? sei scemo... oh! Non posso fare o no... ma nleggia guarda molto di qui caca canto dai also questo è un cane figlio della mignota. ma perché eh? ma come perché? l'ha portato tu su Monaten ah lei ha cacato qui dentro... non aveva fa ogni vuoto fuori... scemo se è dura o mani ma io sento il venti pulizzi che io non l'avevano quanto non l'hai remarkable dai vieni a sentizio impressione vieni a sent.. no 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 vieni a se...保 ... Questo cane com'è? Questo è un cane figlio di una mignota. Ma perché? Ma perché sì. E ma è tanto dopo che la donna urdita fatta prendere che dopo io l'amparo l'educazione. Chissà quanto andrà avanti. La mia merdina preferita. Non puzza. Buonissima. Come ho comprato? Questo ci facciamo. Dove lo mettiamo? Sul culo. No, sul culo no. Questo fuori. Adesso lo andiamo a sistemare. Serve una prolunga. Ce l'è? Le prolunghe da Stangbilla. Dove stanno le prolunghe? Sono da Stangbilla. Dove? Ma io ce l'ho andata dai 10 metri. Ne andavo a dubbi. Stai sempre a cercarle. Ma la ritroveremo? La ritrovo, la ritrovo. Che tipo di p***a c'è? Quella spalapalolo? Quale c'è? Per struttate. C'è quella che ti dimentico? Sì. Oh, sì. Quale c'è? Ce l'ho una. Quale? E' una. Quale? attenzione, perché qui il bar è sempre attivo, ragazzi. Sempre attivo. Sempre, sempre, sempre attivo. Dove? Allora, su da me, no? Te l'hai che l'hai alzata di là? C'è la prolunga? Fermati, dimmi sì o no? Ma, ma va su, va a vedere. De che colore è? Com'è o no? Non vale in cazzo questo. Guardate che proiettore. Fa le seghe. Che fa? Segue. C'è, veramente, 30 euro. Come ti sembra sto proiettore? C'è, faceva più luce di cazzo mio. No! E che luce faceva? Ma cammina, va, ma qui, qui, quel luce fa, quello. Cammina, che quello è il vetonno curato? Apposto. Ho fregato. Ditemi se io devo sopportare queste cose. Sali sopra le sedie a 92 anni, ma dov'è? Oh, Fausti! Smettala! Dov'è? Fermati! Testa di cazzo! Che caschi? Ma io non casco. No, non casco, sincero, io che ti acchiappavo così. Subito. T'ho acchiappato subito, hai visto? Oh. O no. Mettala! Ah! Perché cazzo? Stai cercando la prolunga. Che hanno? Le allende, bellissime. Che hanno? Le luci. Leva la scatola. Ma non... Tocco! Ma da zocco, prosazzo! Ma... Ah, cioè sei scemo! Ma perché? Ma tu quando hai rotto la scatola, che? Tu me la dite un po' che guadagni? Non è quello. Sei imbecilo! Scemo, non è quello con la... Ma tutto sto linguaggio, scemo imbecille, ma che è? Cioè, io veramente... Cioè, a parte che c'è un sottopalla pazzesco... Guarda te, Dio, car... No! Ma te piavo te le comande, poi me la vedevo! Ma me l'ha preso io! Questo? Tutti i giorni a Medeo, vedi? Eh, davvero, tutti i giorni a Medeo. Sempre quello, è ne che... Eh, allora, guardammo, sento la faccia. Sì, sento la... Sì, sento la propria questa, eh? Eh, non sei sveglio coi riflessi, toh? Vediamo se sei sveglio. Oh, vai! Ma voglio andare via a cura, ma guarda qui! Uuuuh! Ho preso un altro telecomando. Che lo stavale, lo staviste, per costruire, per costruire un rapporto... Che meglio da capoglio? Allora, basta, basta! Non va! Eh! Basta ma... No, è nato qui! Non è nato qui! Ma si... Non era, basta! Ho cambiato! Adesso di lava più! Allora, sui! Sui! Grazie a tutti. Ma con che? Ma vaffanculo, tu e il telefono. No, ma non è il telefono. Con te la sto legando, mi sto passando. Ma non è nero io. No, sono io. Nero io. Eh, allora ho spento. Ma non so io, con che l'ho spento. Vaffanculo, non mi fanno imbecile. Ci sarà un modo. Ci sarà un modo. Ma che faccio, non devi aspettare la fine della riunione. Ma no, no, non c'è da che aspettare. Dritto di sopra, prima. Chiapalo, Rocca. Chiapalo. Sì. Chiapalo, Valoncino. Ecco, bravo. 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 Chiapalo. 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 No, no, no. Pijama è già pisciato. Io l'ho indossato. Tu, pigama è già pisciato. Eccolo qua, belli indossati. Pijama è già pisciato. Mi raccomando, fate sempre la pipì. Prima di andare a dormire con questo tipo di pigama è già pisciato. Domani, domani è un giorno fondamentale della settimana. Sì, sì, sì. È venerdì. Sì, sì, sì. È venerdì. Mille storie domani dall'inizio. Domani mattina me ne riesco più al telefono. Mi raccomando, belli carichi. Signora Andreone il Grande, ma domani lei per caso sa che giorno è domani? Me lo dica. Molto carico, lo voglio, eh. Che cazzo. È venerdì. Sì, sì, sì. Venerdì. Sì, sì, sì. Venerdì. Sì, 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 sì. Domani è venerdì. Sì, sì, sì. Venerdì. Sì, sì, sì. Ave Maria. Viene di grappa. La mia. Il Signore è in cantina. Ave Maria. Ave Maria. Viene. Oh. Ah, ah. Ave Maria. Ave Maria. Ah. La mia. Ma te ne scatate. La mia. La mia. Mi raccomando. Mi raccomando che dice. 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 Mi raccomando. 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 Gli fanno 10 Ma l'ho aperto Stronzo! 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 Ahahahah Ah 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 ha messo un *** Lerda mannaggia cristAS Testa di cazzo tranquillo Ma che hai fatto? Ma va va il culo Dottany! Oh, D'accordo!